Musica TG2000 edizione delle 20 e 30 Buonasera e ben ritrovati In primo piano la Siria Offensiva finale del regime di Assad Contro i miliziani jihadisti Nella provincia settentrionale di Idlib Preoccupazione per almeno 700.000 persone Che potrebbero essere costrette a fuggire Luciano Piscaglia e poi il commento di Alberto Negri Esperto di politica internazionale e del mondo arabo Vediamo Sale la tensione a Idlib L'ultima roccaforte ribelle in Siria Nella parte nord-occidentale del paese Dove si teme l'inizio dell'annunciata offensiva Dell'esercito governativo E c'è il rischio, secondo le Nazioni Unite Di una nuova catastrofe umanitaria Per 3 milioni di persone Con il possibile esodo verso l'Europa Di 700.000 profughi Negli ultimi anni nell'area Si sono infatti ammassati i civili in fuga Ma anche tanti esponenti di Al-Qaeda E dello Stato islamico Ora il regime di Damasco Ha deciso di liberare definitivamente Idlib dai terroristi Con l'appoggio dell'aviazione russa E delle milizie iraniane Oggi i ribelli avrebbero fatto saltare Alcuni ponti lungo la linea del fronte Ma Mosca li accusa anche Di avere attaccato con i droni Una base aerea russa E di preparare un attacco chimico Orchestrato in modo da fare ricadere la colpa Su Assad E giustificare Attacchi missilistici punitivi Contro Damasco Di Stati Uniti Gran Bretagna E Francia Esercitazioni navali russe Inizieranno nelle prossime ore Nel Mediterraneo orientale Mentre la diplomazia turca Tenta di scongiurare l'offensiva Un decisivo incontro Tra Erdogan, Putin e Rouhani Si svolgerà il 7 settembre a Teheran Staffan de Mistura Inviato speciale ONU per la Siria Ha chiesto l'apertura di corridoi umanitari Per mettere in salvo I 3 milioni di civili Che vivono nella zona La battaglia di Dribb sarà quella decisiva Per Bashar Assad Con l'obiettivo di riconquistare pienamente Il nord del paese Sarà una battaglia anche probabilmente molto lunga Potrebbe durare settimane o forse mesi Con una tecnica che l'esercito siriano Ha già adottato in altre città assediate Cioè circondarle E poi alla fine lasciare una via di uscita Per coloro che vogliono in qualche modo Prendere la fuga E' la Turchia che teme Fortemente un afflusso di decine Forse centinaia, migliaia di profughi Dalle regioni di Dribb Che prenderebbero per forza di cose La strada del nord Verso la zona del Kurdistan Di affin controllata Dalle turchi e dalle truppe filoturche Ecco perché i turchi Erdogan hanno chiamato Putin Il lì russo Hanno consultato gli americani E temono a questo punto Che se Bashar Assad Andasse dritto con questa offensiva Potrebbe esserci anche una tragedia umanitaria Una cosa è certa La battaglia in Siria Non è certamente finita La Commissione europea Presenterà una proposta di legge Per abolire il cambio d'ora Due volte all'anno Dalla solare a quella legale E viceversa In modo che venga mantenuta La stessa ora Tutto l'anno Marco Bergamaschi Cambio tra ora solare E legale verso l'addio Ad annunciare la possibile svolta È stato il Presidente Della Commissione europea Jean-Claude Juncker La gente vuole questo Ha spiegato Juncker In un'intervista Alla televisione tedesca ZDF Citando i risultati Di una consultazione pubblica E lo faremo La Commissione ha subito Precisato un portavoce Di Bruxelles Presenterà una proposta legislativa Per abolire il cambio d'ora In modo che venga mantenuta La stessa ora Tutto l'anno Ma senza dare indicazioni Di scelta Fra l'uno o l'altra Spetta però Continua il portavoce Agli stati membri Decidere se restare L'ora solare o l'ora legale In quanto la scelta Del fuso orario Resta una competenza nazionale L'idea di spostare Le lancette dell'orologio Avanti di un'ora È nata per sfruttare meglio L'irradiazione del sole In estate E abbassare i costi Dell'elettricità Nell'Unione Dal 2000 Una direttiva Obbliga gli stati A introdurre l'ora legale Tra il 25 e il 31 marzo A rimuoverla Tra il 25 e il 31 ottobre Secondo i primi risultati Della consultazione pubblica L'80% degli interpellati È favorevole All'abolizione Del cambio dell'ora semestrale La richiesta Di rinunciare All'ora solare È sostenuta Soprattutto dai paesi nordici Che denunciano Danni per la salute Del cambio di ora Danni sui quali Gli esperti si dividono Secondo i sostenitori Dell'abolizione Tale cambio Provoca disturbi Del sonno Squilibri nel corpo Sbalzi d'umore Aumenta il numero Di problemi di cuore Incidenti o infortuni Per quanto riguarda Vantaggi e svantaggi economici Se il risparmio Di elettricità stimato Grazie all'ora legale È circa dello 0,2% Pari secondo terno Ad una media Di circa 100 milioni Di euro all'anno La tendenza risparmio È venuta calando Negli ultimi anni Anche per via Dell'impiego Sempre più diffuso Di condizionatori E climatizzatori Torna a salire Lo spread Che tocca Quota 290 Oggi I dati Istat Sulla crescita Che rallenta E la disoccupazione Che diminuisce Sentiamo Flaminia Festuccia Sono migliori Delle previsioni I dati Istat Sull'occupazione Nonostante Un minimo calo Rispetto al mese scorso Su base annua Da luglio 2017 L'occupazione Cresce Dell'1,2% Pari a Più 277 mila unità Un dato positivo Che però Da solo Non basta Inquadrare la situazione Sono aumentati Gli inattivi Gli inattivi Sono quelle persone Scoraggiate Che non cercano Neanche lavoro Meno disoccupati Non significa Per forza Più produttività Quando la forza Lavoro Nel suo complesso Si contrae Complessivamente Questo è un dato negativo La forza lavoro Sta diminuendo Anche per effetto Demografico Sono 140 mila unità In meno Questo vuol dire Che complessivamente L'insieme di quelli Che lavorano Per produrre Per creare valore Nel nostro paese Si riduce Un dato rilevante Riguarda anche La composizione Del mercato del lavoro L'espansione Si concentra Tra i lavoratori A termine In ripresa Anche gli indipendenti Mentre calano In misura rilevante I dipendenti Permanenti Una tendenza Che il cosiddetto Decreto Dinità Entrato in vigore A metà luglio E quindi quasi In influente Sulle ultime rilevazioni Istat Vorrebbe invertire Ma che rischia Invece di avere Effetti opposti Quello che è più probabile È che le aziende Rinuncino ad occupare Oppure aumentino Il turnover È difficile Che una dinamica Così forte Di aumento Dei contratti A tempo determinato E riduzione Di quelli A tempo indeterminato Si possa invertire Con quelle misure Di polisi Però staremo a vedere Non aiuta Il livello basso Dei salari Che influisce anche Sul numero Di inattivi Proclamato per l'11 settembre Uno sciopero In tutti gli stabilimenti Ilva Per protestare Contro la mancata Convocazione Da parte del governo Sul futuro Delle acciaierie A stretto giro Il ministro Dello sviluppo economico Di Maio Annuncia di aver convocato I sindacati al ministero Per il 5 settembre Il vescovo di Taranto Monsignor Filippo Santoro Dice intanto La situazione È drammatica Lo sciopero È necessario Cambiamo pagina Google Google e Mastercard Avrebbero concluso Un accordo segreto Per consentire Alla società Californiana E ai suoi Inserzionisti Di tracciare Le vendite Al dettaglio Di oltre 2 miliardi Di utenti Si parla Di violazione Della privacy Ma dai vertici Del motore di ricerca C'è stata Una replica Immediata Alle accuse Sentiamo Luigi Ferraiolo Nell'ultimo anno Una collaborazione Tra Google E Mastercard Ha permesso Ad alcuni Inserzionisti Negli Stati Uniti Di scoprire Se la pubblicità Online funziona Inducendo i clienti A comprare Nei normali negozi E come Il programma Era stato annunciato Lo scorso anno Da Google Ma l'accordo Con Mastercard Non era stato reso noto La possibilità Di tracciare Preferenze e acquisti Degli utenti Anche offline Pone numerose questioni Soprattutto in termini Di riservatezza Anche se un'azienda Vuole operare bene Non è detto Che altrettanto Facciano Tutti i suoi dipendenti Ricordo che Qualche anno fa Il caso che travolse La security Di Telecom Italia Iniziò Perché un dipendente Infedele Che aveva accesso Ai dati Voleva lucrare Su una questione Di infedeltà A Napoli Inoltre Quasi quotidianamente Abbiamo notizia Di violazione Di dati Avvenute online Che coinvolgono Anche aziende Blasonate Basti pensare Al recente scandalo Che ha travolto Facebook Con Cambridge Analitica Il sistema Messo a punto Da Google Funziona più o meno Così Un navigatore Vede l'annuncio Di un prodotto Online Clicca sulla pubblicità E finisce sul sito Che lo promuove Senza però Acquistare nulla In un secondo momento Entra in un normale negozio Vede il prodotto Pubblicizzato online E lo compra Pagando con la sua Mastercard L'azienda Riceve le notizie In percentuale Sui flussi collettivi Di acquisti E le preferenze Senza però Conoscere Chi li abbia effettuati C'è un'opzione Che consente Di disabilitare Il tracciamento Pubblicitario Di Google Nei telefoni Non è immediato E bisogna Disabilitare Questo tracciamento Questo si può fare Non è facilissimo E poi non è neanche Detto che funzioni E' stato scoperto Di recente Che anche gli utenti Che disabilitavano La localizzazione Venivano tracciati Nella loro posizione Centinaia di volte Al giorno Bastava che avessero Il browser Chrome E questo da parte Di Google Il servizio Era stato annunciato Nel maggio del 2017 Sul blog di Google Ma l'articolo Non offriva molti dettagli Grazie ad alcuni impiegati Si è scoperta L'esistenza dell'accordo Un portavoce di Mastercard Ha ricordato a Bloomberg Che questa pratica È usuale Nel frattempo La Cina è stata accusata Di spiare i manager Sul LinkedIn Potrebbero iniziare Già tra un mese A Genova I lavori per rimuovere Ciò che resta Del ponte Morandi Il servizio Di Beatrice Bossi Con i due monconi Del viadotto Morandi Ancora lì Sospesi a mezz'aria E le macerie a valle Ancora da portare via Autostrade per l'Italia Conferma Di non avere responsabilità Sul crollo del viadotto Dopo aver rinnovato Le condoglianze Alle famiglie Delle 43 vittime Con un comunicato stampa Il consiglio di amministrazione Dichiara Il proprio convincimento In merito Al puntuale Adempimento Degli obblighi concessori Parole indecenti Secondo il ministro Delle infrastrutture Danilo Toninelli Dichiarazioni fuori luogo Invece Per Luigi Di Maio Che risponde alla società Con un posto su Facebook Ho letto tutta la convenzione Scrive il vice premier Far crollare un ponte E causare 43 morti Non era nel contratto Nel giro di qualche giorno Il governo riceverà Gli allegati A sostegno della tesi Di società autostrade Intanto ieri È stata consegnata La bozza Del piano di demolizione Il moncone ovest Dovrebbe essere smontato E portato via In una ventina di giorni Da un paio di gru Salvando Da eventuali crolli Le aziende sottostanti Quello ovest Invece Dovrebbe essere abbattuto Con escavatori telecomandati E in parte Anche con cariche di esplosivo Insieme al Morandi In questo caso Sarebbero demolite Anche le 11 palazzine Della zona rossa Le 150 famiglie Residenti In quegli edifici Vorrebbero poter tornare a casa A prendere le ultime cose Ma i tecnici Valuteranno gli eventuali pericoli Solo nei prossimi giorni Comunque Se la burocrazia E il meteo Lo permetteranno A fine ottobre Sulla val del Polcevera Non ci sarà più L'ombra del Morandi Da questa sera Alle 21 però Le piogge su Genova Già faranno scattare L'allerta gialla Allarme nello spazio Un meteorite Caduto sulla navicella Spaziale russa Sayus Ha messo in crisi Per qualche ora I centri spaziali Americani e russi Letizia Davoli L'allarme a Houston È scattato Mercoledì sera Quando il centro di controllo Della stazione spaziale Internazionale Ha rilevato Un lieve calo Nella pressione interna Questione di poco Ma abbastanza Per mettere in atto Tutte le procedure Necessarie a garantire La sicurezza Degli astronauti a bordo Sei al momento Tre della NASA Uno dell'Agenzia Spaziale Europea E due russi La perdita non era Tale da impensierire Il centro di controllo missione La scorta di ossigeno A bordo della ISS Garantisce la sopravvivenza Dell'equipaggio Per 18 giorni Ma qualsiasi anomalia Nello spazio Può trasformarsi in tragedia Le indagini hanno portato In poche ore A scoprire la causa Un piccolo foro Appena 2 mm Nel modulo orbitale Della Soyuz La capsula russa Con cui gli astronauti Vanno e vengono Dalla ISS Con un intervento rapido In un primo tempo Decisamente artigianale Il foro è stato tappato Utilizzando un nastro Composto ad un materiale speciale In grado di resistere Ad un ampio spettro Di temperature Oggi terminata l'emergenza Gli astronauti Sono tornati Al loro lavoro quotidiano Nella stazione Ma alla mente Tonano altre crisi Al lieto fine Che hanno accompagnato La corsa allo spazio Su tutte Quella dell'Apollo 13 Destinato alla Luna Ma mai arrivato Anche in questo caso Le procedure Messe in atto Da terra e dallo spazio Hanno salvato la vita Etter astronauti Tornati a casa sani e salvi Dopo non poche traversie E quasi senza ossigeno O la passeggiata Extraveicolare Del nostro astronauta Luca Parmitano Che ha rischiato Di morire affogato Per l'acqua Che si era formata Nel casco Emergenze Dalle quali si è imparato Tanto E che aiuteranno A creare lassù Nello spazio Una nuova casa Per l'uomo Sempre più sicura E' stato ritrovato Il computer Del piccolo Andrea Dallosso Alunno disabile Di una scuola Elementare di Bologna Commozione Del papà Gianluca Che aveva fatto appello Per la sua restituzione Perché in quel pc C'era un prezioso software Che conteneva Tutto l'apprendimento Del piccolo Sentiamo Silvio Vitelli I ladri Lo avevano rubato In una scuola Elementare Di Bologna Apparentemente Era un computer Come tanti Invece no Apparteneva Al piccolo Andrea Alunno disabile Che negli ultimi Quattro anni Aveva fidato A quel pc E al prezioso software Che conteneva Tutto il suo apprendimento Non era solo Un computer Era una storia Una parte di vita Racconta suo padre La storia di Andrea Degli ultimi anni scolastici Che l'ha seguito Fin dalla materna Con tutto il suo contenuto Le sue foto Il suo lavoro I suoi esercizi Dedicati E quindi Un valore inestimabile L'appello Affinché venisse restituito Aveva fatto Il giro d'Italia E non solo Era arrivato Fino al Paris Saint Germain Col calciatore Marco Verratti Che ha effettuato Una donazione Alla scuola Per riacquistare Tutti i computer rubati Peccato Che per il piccolo Andrea Il vero tesoro Fosse il contenuto Del suo pc Stamattina però Papà Gianluca È stato convocato In questura Pensavo fosse burocrazia Invece Quando sono arrivato Avevano il computer Tra le mani E me l'hanno donato Io mi sono commosso Devo dire Loro anche Mi dicevano Noi ci occupiamo Di tutti i furti Purtroppo sono tanti Questo però Aveva un valore particolare Han detto Questo lo dobbiamo Dobbiamo metterci Oltre che il nostro Solito impegno Anche il nostro cuore E si sono mossi In silenzio Nel sottobosco Senza fare rumore Fino a quando Il computer Non è venuto fuori È stato un momento Bellissimo E sarà soprattutto Un momento bellissimo Per Andrea E quindi Insomma È una storia Che è finita Veramente bene Con questa storia Lieto fine Termina il TG2000 Grazie per la cortese Attenzione Vi auguriamo Un buon proseguimento Di serata Ed una notte serena Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti